L'Italia ha esaurito le risorse naturali a sua disposizione per l'anno solare in corso. Dunque, da oggi al 31 dicembre, il nostro Paese, attingendo alle materie prime, creerà debito con il pianeta. A renderlo noto è il Global Footprint Network, che quantifica l'impatto ambientale di ciascuna nazione e l'impronta ecologica mondiale. Il network ha infatti stabilito che per l'Italia l'Overshoot Day per il 2021 è stato il 13 maggio, ovvero ieri. Nel 2020 fu il 14 maggio, nel 2019 il 15. L'anno scorso l'Overshoot Day globale è caduto il 22 agosto. Il 35% della popolazione adulta europea ha ricevuto la prima dose, il 14% la seconda. Questo ci rende ottimisti di riuscire a consegnare il numero sufficiente di fiale per raggiungere l'obiettivo del 70% di europei adulti vaccinati a luglio. Lo dice a News Mediaset il commissario dell'Unione Europea alla Salute, Stella Chiriachides. Sulla Commissione Europea, che ha recentemente annunciato anche di stare lavorando sulle cure per il Covid, dichiara, sì, il virus può diventare endemico e quindi guardiamo anche alle terapie. L'EMA sta al momento valutando quattro anticorpi monoclonali. Secondo un'indagine firmata a Svimez, Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tegliacarne, Union Camere, e condotta su un campione di 4.000 imprese e manifatturiere dei servizi, sono 73.200 le imprese italiane a forte rischio e espulsioni dal mercato a causa della crisi dovuta alla pandemia. Si tratta del 15% del totale. Di queste, quasi 20.000 sono nel mezzogiorno e 17.500 al centro. Secondo il 33esimo rapporto Italia di Urispes, il 28,5% dei cittadini dichiara di aver dovuto ricorrere al sostegno economico della famiglia di origine nel corso dell'ultimo anno, ma solo il 14,8% ha chiesto aiuto ad amici, colleghi o altri parenti. Il 15,1% ha fatto richiesta di un prestito bancario e quasi il doppio ha effettuato acquisti rateizzando il pagamento. La crisi economica ha inoltre evidenziato come il 10% del campione preso in esame è dovuto tornare a vivere nella casa della famiglia d'origine o dai suoceri. Il 22,4% ha pagato le bollette con forte ritardo e il 18% è stato arretrato con le rate del condominio.